Bentornati gente, oggi parliamo di PASKey, il nuovo metodo di autenticazione che sta letteralmente spopolando in tutto il mondo per la sua disarmante semplicità e che nel giro di pochi, pochissimi anni rivoluzionerà definitivamente il modo in cui ci proteggiamo online. Le PASKey sono più sicure, più facili da utilizzare e più convenienti delle classiche password a cui siamo oggi abituati, che molti di noi detestano va detto, oltre che sono già supportate da tantissimi siti web ed app. Per cui che aspetti? Mettiti comodo e seguimi nei prossimi minuti nei quali affronteremo da vicino quest'interessante nuova tecnologia, analizzandone pro e contro rischi e benefici, vedremo come funziona, come si attiva, se davvero è così sicura come dicono e tanto altro ancora. E non preoccuparti tra l'altro se di informatica per caso ne capisci poco o niente, perché in questo caso davvero ti basta solamente uno smartphone e un dito, anzi in realtà il dito ancora per poco tempo, dato che... ah vabbè, questa ve la dico dopo dai. Giusto il tempo di un secondo per ricordarvi come sempre di passarci a seguire su tutte le nostre pagine social e di iscrivervi al canale per supportarlo attivamente, attivando anche la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni ogni giovedì ore 12.30. Parliamoci chiaro gente, l'attuale situazione in termini di sicurezza informatica globale è a dir poco preoccupante. Statistica alla mano, parliamo di un incremento del 23% tra il 2021 e il 2022 e del 10% nei soli primi sei mesi dell'anno corrente rispetto al 2022. La quantità di attacchi informatici, in particolare di tipo phishing, ransomware ed idos, sono davvero aumentati a livello spaventoso negli ultimi anni e la questione può solo che peggiorare con l'avvento delle intelligenze artificiali, le quali nell'arco di un paio di click sono in grado di generare messaggi iper realistici, sms o mail da poter inviare in tutte le lingue del mondo. Non so voi, ma personalmente non passa settimana che non legga di un qualche furto di dati o hack di profili vari. Giusto appunto oggi che sto registrando questo video sono stato contattato da un mio ex collega appunto per il fatto che gli hanno bucato la mail con il relativo account di Facebook e anche Instagram, quindi una situazione decisamente spiacevoli. E per quanto in alcuni casi sia fortunatamente possibile recuperare il mal tolto, nella maggior parte non lo è. Io stesso sono stato e sono tuttora bersaglio di questo tipo di attacchi, ma ben consapevole dei rischi che si vanno a correre. Utilizzo già da tempo l'immancabile autenticazione a due fattori unitamente a password mega super ultra strong da minimo 20 caratteri l'una, le quali non mi sarebbe ovviamente possibile ricordare senza il supporto del mio fido Bitwarden, il miglior gestore di password gratuito sul mercato, al quale abbiamo dedicato un video specifico sul canale e che se vi siete persi vi lascio linkato sia qui sotto in descrizione che on screen. E attenzione, sebbene per questo io possa dirmi in una botte di ferro protetto, è sicuro che in realtà non lo sono affatto e come me, neanche voi. Tutti siamo in pericolo perché la realtà gente, e spiace dirlo, è che le password, anche le più strong, stanno divenendo sempre più vulnerabili agli attacchi informatici e arriverà il giorno prestissimo, attenzione, in cui serviranno quanto un ombrello di carta sotto la pioggia. Ve lo dico chiaramente, molti, moltissimi di voi in questo momento hanno password e account compromessi in maniera irreparabile e il guaio è che non lo sanno, non lo potete sapere. Perché fin tanto che ti bucano il profilo di WeTransfer uno può dire chi se ne frega e sono pienamente d'accordo, ma nel momento che succede la stessa cosa con la mail oppure con un qualche account contenente informazioni delicate e sensibili che non sarai mai più in grado di recuperare in vita tu, allora ti ricorderai di questo video e delle parole del vecchio doc che ti darai una poderosa martellata sul mignolo per non avermi ascoltato a tempo debito. Anzi, facciamo due, va là. La cruda realtà, gente, è che se non vi preoccupate voi stessi di mantenere al sicuro i vostri account, non lo farà nessun altro e se qualcuno per questo riuscisse a danneggiarvi sarà soltanto colpa vostra. Certo, le password sono una monumentale, gigantesca rottura di ciufoli, mai detto il contrario, soprattutto perché dovrebbero essere lunghe, totte, complesse, totte e quindi impossibili da ricordare. Pertanto ti diviene ovvio utilizzare un gestore di password che magari è complesso, ce l'hai solo sul telefono, non ricordi la chiave di sblocco, hai lasciato il dito a casa, hai lasciato lo smartphone a casa, insomma, veramente un calvario. Certo, se utilizzate un gestore di password come si deve, tipo il famoso BitWarding di cui parlavamo prima, credenziali complesse e attivati ovunque possibile, la 2FA, siete anni luce avanti alla stragrande maggioranza delle persone e godete di un ottimo livello di sicurezza, ma come sta divenendo oramai tristemente chiaro da qualche tempo a questa parte, anche l'autenticazione a due fattori non basta più per mantenerci al sicuro. Questo perché il sistema che ospita l'autenticator, tipicamente il nostro smartphone, può essere infettato le sim clonate e gli account mail penetrati con la forza. E non pensate mica che si tratta di roba di fantascienza che mai può succedere alle persone normali, anzi, è tutto il contrario, con noi signori nessuno diventa nettamente più facile tutto questo. E questo perché purtroppo, esattamente come abbiamo fatto presente qualche tempo dietro sul canale con uno short dedicato, moltissime persone utilizzano la stessa identica password per tutti i siti a cui si vanno a registrare, la quale, ancor più purtroppo, è di una banalità sconvolgente il più delle volte. Roba tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, QWERTY, l'anniversario, il nome del cane della squadra, del quale roba simile. E non mentite gente, so che tra di voi che mi state guardando in questo momento c'è qualcuno che lo fa abitualmente, tra l'altro, ecco, se così è, sappi, lo spero che possa finire in pasto ai peggiori hacker di questo mondo. Perdonate la brutalità, lo sapete, non vi voglio male, gente, ma queste cose, questo genere di comportamenti mi fa letteralmente uscire dai gangheri. Agire in questo modo con una tale superficialità nel 2023 dove abbiamo a disposizione decine di strumenti per lo più gratuiti e di facilissima comprensione con un minimo di impegno oppure di ricerca perché... Venite che ve lo dico in un orecchio, vieni, avvicinati. I canali come IT Support di YouTube, ma anche blog, forum e siti web esistono giusto appunto per questa ragione, per insegnare alla massa, che non si intende di questa materia dell'ambito informatico, come si fa a destreggiarsi in questo mondo. Pertanto, cercateli, esistiamo per quello. È letteralmente come tirarsi la zappa sui piedi, furbo quanto giocare a mosca cieca in autostrada. Pertanto, se ci tieni a non finire spatasciato su di un parabrezza in stile b-movie, dovresti prendere in seria considerazione l'attivazione delle paschi, la cui forza risiede proprio nella semplicità di utilizzo, dato che sostituiscono interamente, attenzione, interamente le password e le annesse autenticazioni a due fattori, utilizzando un accesso legato a un dispositivo, un token, preferibilmente biometrico. What? La vostra password, com'è ora, adetta alfanumerica e quindi composta da lettere, numeri e simboli, verrà sostituita da un dispositivo hardware, tipicamente uno smartphone, il quale riuscirà a riconoscervi mediante un'informazione biometrica e quindi appunto la scansione dell'impronta digitale oppure del volto. Quando attiviamo una paschi per un account, il servizio crea una cosiddetta chiave criptografica pubblica super sicura ed inaccessibile all'esterno, basata proprio sul dispositivo che abbiamo scelto di utilizzare. Guardate bene però attenzione in questo caso che non tutti i dispositivi possono essere utilizzati per questo scopo, ma solamente alcuni e appunto, come nel caso che abbiamo fatto, il nostro smartphone oppure alcuni modelli più recenti di computer portatile, computer desktop o ancora quei token portatili simili a chiavette USB che un tempo si utilizzavano per la banca online. E tolta qualche differenza di secondaria importanza, la procedura per l'attivazione di una paschi non cambia a seconda del servizio. In altre parole si fa sempre nello stesso modo ad eccezione di un punto il quale dipende specificatamente dal dispositivo che avete scelto di utilizzare. Ma vi faccio un esempio pratico di come si abilita una paschi in questo caso per il nostro account Google. Connettiamoci al nostro account, quindi sezione sicurezza sulla sinistra e in mezzo alla pagina fra i metodi di autenticazione troveremo la voce paschi. Clicchiamoci sopra e nella finestra seguente selezioniamo banalmente crea una paschi. Bene, fin qui facilissimo, ma ecco che ora entra in gioco la differenza di cui vi parlavo poc'anzi, la quale appunto risiede totalmente nel dispositivo che andremo ad utilizzare per completare la procedura, il quale se come nel nostro caso o nel caso di uno smartphone possiede una funzione di riconoscimento biometrico ci verrà allora richiesto di scansionare la nostra impronta digitale oppure il volto. Mentre invece qualora stiate utilizzando un dispositivo privo di riconoscimento biometrico come ad esempio un vecchio personal computer oppure un tablet, vedrete questa notifica a schermo cliccate sul tasto blu e dopo aver attivato come richiesto il bluetooth ecco che vedrete apparire a schermo un QR come quello che vedete in sovraimpressione il quale vi basterà semplicemente a inquadrare nuovamente con il vostro smartphone e completare da lì la procedura esattamente come vi ho spiegato nel punto precedente. Basta tutto qui, una procedura che richiede a spalare due minuti e che raddoppia, decuplica il vostro attuale livello di sicurezza, dato che, lo ripetiamo, viene generata una chiave criptografica basata sul metodo di riconoscimento biometrico. Attivando la Paschi per Google, per tornare all'esempio di poc'anzi, il servizio ha registrato il mio smartphone e la mia impronta digitale associandole all'account stesso, di modo che la password necessaria per accedere divenga il mio personale dispositivo che scansiona la mia personale impronta digitale o volto. E prima che possiate domandarvelo, questa chiave criptografica è assolutamente e totalmente inattaccabile a causa della sua estrema complessità, ma mettendo anche caso che qualcuno riuscisse ad entrare in possesso, a sottrarla, beh, gente, la realtà è che non potrebbe farci assolutamente niente, perché per decifrarla ed utilizzarla gli sarebbe anche necessario possedere il mio smartphone e la mia impronta digitale o volto, da utilizzare peraltro contemporaneamente nello stesso momento. E sì, certo, se perdo il telefono mi tira l'anima, però, amen, diversa cosa è se ovviamente perdo un dito o più di un dito o direttamente la faccia, ma in quel caso credo che leggere le mail sia decisamente l'ultimo dei miei problemi. Questo per farvi capire la logica dietro il fatto che se anche una password è iper mega strong con centomila caratteri, un banale attacco di phishing o un furto dello smartphone potrebbe far sì che il malintenzionato ne entri in possesso, ma ciò non può accadere per le paschi, perché mettiamo anche caso che riescano a rubarmi lo smartphone, senza il mio dito non potrebbero fare niente, o il mio volto nel caso, pertanto dovrebbero anche rapirmi e costringermi a farlo, e dato che io non sono James Bond, diciamo che è abbastanza improbabile tutto questo, ecco. Oltre poi all'estremo livello di sicurezza c'è anche la praticità e la comodità, l'assoluta comodità di non doversi più, mai più ricordare le password. Questo perché un domani che avremo necessità di accedere ad un nostro account sul quale è attiva l'app aschi, banalmente cosa succederà? Andremo al nostro computer, accederemo al sito, ci verrà richiesto di autenticarci e noi banalmente schiafferemo il dito sullo smartphone, oppure scansioneremo il monto e in meno di mezzo secondo saremo dentro. Un'assoluta figata oltre che incredibilmente comoda, people, c'è poco da dire. Domanda che non nego mi sono posto anch'io al momento di dover abilitare la mia prima paschima, della quale non c'è assolutamente nulla di cui preoccuparsi. Analogamente alla questione Authenticator, anche in questo caso sono stati previsti innumerevoli sistemi di backup e di sicurezza che ci aiutano a rientrare in possesso del nostro account anche nel caso chi ci dovessero rubare lo smartphone o dovessimo perderlo. Per cui, gente, non preoccupatevi e non fatevi prendere dall'ansia. Sistemi come questi vengono studiati da persone che ne sanno veramente dei chilometri e che appunto prevedono di default dei sistemi di sicurezza necessari a far sì che le persone comuni possano vivere in santa pace. L'unico caso in cui avreste degli enormi problemi sarebbe perdendo il dito oppure il volto, ma appunto credo che in questo caso accedere al vostro account Google sia in fondo alla lista delle priorità. I servizi compatibili con l'autenticazione di tipo paschi sono già oggi innumerevoli, aumenteranno vertiginosamente nei prossimi tempi, dato che, come dicevo, le persone, gli utenti che decidono di attivarle sono ogni giorno sempre di più. Ad ogni modo, se volete tenere sotto controllo attivamente la questione vi consiglio di fare un salto su passkeys.directory di OnePassword, il quale si aggiorna appunto di pari passo man mano che nuovi servizi adottano il sistema paschi. E per finire la notizia che vi avevo droppato a inizio video, pare che un team di scienziati americani stia sviluppando un nuovo metodo di Paschi di autenticazione basato sulle onde cerebrali. Sì, avete capito bene. Questo campo di studio è noto come Brain Computer Interface e si basa sull'utilizzo di un elettroencefalogramma per misurare l'attività cerebrale dell'utente, la quale viene poi convertita ed utilizzata per creare una chiave d'accesso necessaria ad accedere a determinati sistemi o servizi. Il vantaggio di questo metodo è che le onde cerebrali sono difficilmente hackerabili in quanto univoche per ogni individuo, oltre che per utilizzarlo sarà sufficiente all'utente inserirsi un particolare tipologia di EEG portatile, tipo il classico auricolare Bluetooth che andava molto una volta, e pensare semplicemente alla password che ha bisogno di generare per accedere a quel determinato servizio. Sì, è chiaro, tutto questo è ancora oggi in fase di sviluppo, ma se dovesse avere esito positivo, cambierà per sempre il metodo in cui ci autentichiamo online e potrebbe davvero aprire porte che finora abbiamo solamente sognato. E titoli di coda, io vi ringrazio come sempre per avermi seguito fino a questo punto ascoltandomi, spero, vivamente con interesse, ma ditemi che cosa ne pensate di queste paschi? Eravate già a conoscenza di questa tecnologia? L'avete già utilizzata? E se sì, su quali servizi? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sono sempre curioso di sapere la vostra opinione e mi raccomando, se il video vi è piaciuto, ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è T-Support e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12.30 con un nuovo episodio. Mi raccomando gente, non cambiate canale. Grazie. 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 Grazie.